Immaginate di essere nello spogliatoio, di essere in un momento in cui vi state cambiando, state pensando magari ai fatti vostri, non siete assolutamente pronti a essere colpiti da un messaggio pubblicitario. Eppure ci sono occasioni proprio come questa in cui il messaggio arriva molto più diretto perché è targetizzato esattamente sulle persone che possono essere in quello spazio. C'è una startup che ha deciso di fare di questo tipo di pubblicità la propria forza, almeno inizialmente, si chiama Bulsara Advertising, siamo qua con Federico, il fondatore, ciao. Ciao. Che ci spiega un po' come è nata questa idea, quali evoluzioni hai avuto, ma prima di tutto come sei nato tu come imprenditore e qual è stato il percorso che ti ha portato fin qua. Allora io ho cominciato proprio il giorno dopo la laurea con Bulsara e Bulsara nasce dall'ossfruttamento di spazi che non nascono come luoghi di comunicazione, almeno in Italia non nascevano così, perché all'estero il toilet advertising esiste un po' da tanti anni, anche se in forma diversa. E questi spazi sono proprio bagni, quindi servizi igienici, sia nella parte specchia lavandini che anche nella parte interna dei cabinet, spogliatoi delle palestre e fasciatoi nei centri commerciali. Sono luoghi che appunto garantiscono al brand che si promuove di targetizzare al 100% sul tipo di persona che vedrà quel messaggio. Se siamo ad esempio in un'università, sarà uno studente. Inoltre, potendo differenziare servizi igienici maschili e femminili, è uno studente uomo o uno studente donna. Quindi un brand che vuole fare una comunicazione per le ragazze tra i 20 e i 23 anni di un target specifico, magari di un'università privata, sa che nel bagno di quell'università potrà colpire esattamente solo le persone a cui mira. E idem negli spogliato delle palestre e nelle aree dei fasciatoi, dei centri commerciali dove ci sono le mamme che cambiano i bambini, anche quello è un target molto specifico e garantisce al brand questo obiettivo. Noi come strutture abbiamo appunto l'università, i centri commerciali, anche però gli aeroporti, le palestre, cinema, teatri, luoghi di vario tipo dove frequentate le persone, dove c'è un flusso interessante. Tu mi dicevi che effettivamente qualche anno fa questa tipologia di advertising, quando siete nati, era abbastanza disruptive, comunque abbastanza nuova in Italia, quindi ha avuto subito un buon seguito. Poi pian pianino vi siete spostati anche sull'online, non solo sull'offline, per completare un po' la vostra offerta, ma anche perché è un trend che va di più in questo momento. Sì, all'inizio il fatto di essere offline come alternativa ai mezzi tradizionali era comunque stato un punto di forza. Poi chiaramente con l'aumento degli investimenti sul web abbiamo anche noi dovuto aggiustare il tiro e proporci con qualcosa di diverso, quindi con campagne integrate offline online. Adesso un progetto attuale, poi magari ne parleremo dopo, rispecchia tutto questo ed è interessante anche vedere come si evolve da una parte e dall'altra per poi sfociare in un qualcosa di offline. Ecco, ma come si imposta una campagna che appunto parte dall'online? Quali sono i canali principali che voi sfruttate? Anche perché comunque avete mantenuto un po' questo stile disruptive anche nel messaggio di comunicazione, non solo nel dove viene posto e appunto come si imposta una campagna che poi deve finire, sfociare in un evento offline. Adesso mi parlavi di Wake Up Roma che state seguendo in questo momento. Sì, questo qui ad esempio Wake Up Roma è un progetto che è nato da un'idea offline, quindi al contrario, però da un'idea di risvegliare Roma dal degrado in cui è finita negli ultimi anni, negli ultimi tempi ed è un evento che ha l'obiettivo di portare delle persone in piazza, dare un segnale positivo e pulire proprio la città. Quindi con un kit che verrà fornito ci saranno delle piazze che poi comunicheremo in seguito, perché l'evento è il 12 marzo quindi c'è ancora un mese abbondante, quasi due di comunicazione nella quale abbiamo delle date previste per le uscite, insomma, dei vari step che poi verranno comunicati ufficialmente ed è un evento che nasce poi da due realtà che sono Retech Roma e Luisa Labs dove noi abbiamo anche gli uffici, che ha l'obiettivo quindi di svegliare Roma da un segnale ai cittadini proprio di comportamento, perché ci si lamenta molto che le istituzioni non sono presenti, che il servizio non viene fatto bene, però il primo segnale deve essere dato alle persone che sporcano la città, che la lasciano abbandonata, che non fanno nulla per tenere la pulita. Questo è un evento quindi che nasce offline, cioè l'obiettivo è un'azione di piatto, un evento finale che ci sarà il 12 marzo a Roma. Per poter arrivare offline però c'è bisogno di tutta una comunicazione online prima, quindi abbiamo una presenza anche offline durante alcuni eventi di presentazione, proponendo ovviamente l'evento e parlando dell'iniziativa, però poi c'è tutta una comunicazione online che sui canali social è indispensabile per poter diffondere la notizia, quindi con dei video, con dei post, dei comunicati, delle locandine, delle foto. È importante differenziare anche i canali di comunicazione in questo caso, non solo le forme ma anche i canali di comunicazione per arrivare al più ampio target possibile? No, è importantissimo, nel senso che noi nello specifico abbiamo aperto una pagina Facebook dove abbiamo una comunicazione costante giornaliera, però questo non esclude che poi su Twitter e sugli altri social non ci sia attività, perché comunque deve essere fatta su tutti i social indistintamente, sempre cercando di colpire un target diverso oppure di dare una cosa integrata. Quindi magari dalla pagina Facebook ci sono dei rimandi a delle iniziative, a un contest ad esempio che abbiamo fatto per dei fumettisti per fare una storia su questo evento. Viceversa da Twitter ciò rimando magari a un'intervista radio dove siamo andati adesso la settimana scorsa e andremo in continuazione fino a marzo. Ci sono dei rimandi continui tra i vari canali che portano poi allo stesso obiettivo che è quello di registrarsi e venire il 12 marzo in piazza con noi. Anche la parte grafica immagino nel vostro lavoro abbiamo una parte dominante, soprattutto magari anche all'inizio in cui facevate queste specie di pubblicità, però sempre in maniera anche abbastanza innovativa. Abbiamo visto qua anche nei bagni dell'Ellaps dove voi siete, avete fatto delle affissioni particolari. Voi avete internalizzato questa funzione? Quanto pesa nel processo? È importante assolutamente, è una funzione indispensabile, è internalizzata e anche questa si è un po' modulata nel tempo perché inizialmente con i lavori offline c'è bisogno di un tipo di creatività e di materiali diversi come questi appunto che avete visto nel bagno, quindi lì si tratta di sticker e materiali con cui rivestire proprio lo spazio. Per la parte web si tratta invece di web design, quindi è un po' diverso, però comunque è un'area fondamentale ed è anche stimolante, divertente studiare sempre il tipo di comunicazioni diverse in base al progetto su cui lavoriamo. Voi fate più che altro advertising mirato a eventi specifici o singole call to action. Vi capita anche di lavorare magari invece più nel tempo quindi di andare a costruire proprio magari la brand identity o rafforzare la brand identity di un cliente? Quali differenze ci sono nei due diversi tipi di pubblicità che si fanno fare? Allora, questo qui è appunto un evento, abbiamo parlato adesso di un evento, quindi la comunicazione è in questo caso anche di lungo periodo perché abbiamo cominciato a novembre, quindi sono cinque mesi di comunicazione in cui si deve far conoscere un evento da zero e nello specifico questo è un evento che è lanciato a due realtà che a loro volta hanno dei canali di comunicazione, quindi la comunicazione dell'evento va in parallelo con quella dei due brand diciamo che stanno dietro all'evento e senza, come dire, senza distogliere l'attenzione dal focus poi dei singoli brand, quindi i singoli brand sono uniti per questa iniziativa del 12 marzo però indistintamente loro, indipendentemente loro vanno avanti sui loro canali con altre comunicazioni per tutte le cose che fanno per il loro business. Quindi in questo caso è interessante andarsi a integrare con loro e a creare delle campagne integrate con i loro canali, facendo sì che l'evento non passi in secondo piano ma non sia predominante rispetto al resto perché giustamente i due business poi sono paralleli e vanno su due canali comunque diversi. Nel caso invece di una campagna che serve per rafforzare una brand identity è un lavoro un po' diverso perché lì abbiamo magari una fan base di persone che già conoscono il brand e hanno bisogno magari di una rinfrescata, di un nuovo spunto, di un input per fare qualcosa quindi mentre qui è un evento che di fatto parte da zero, non è conosciuto da nessuno le due realtà sono magari conosciute però l'evento in sé ovviamente parte da una pagina Facebook di zero utenti e idem su Twitter e sugli altri canali. Quando si lavora su un progetto che magari ha già una base però deve essere cambiato qualcosa o migliorato, è un lavoro diverso perché si lavora su delle persone che in teoria conoscono già il brand, sono fidelizzate e vanno mantenute e più ovviamente acquisire nuovi fan. Quindi è un lavoro diverso a livello di comunicazione perché si parla con un linguaggio diverso. Quando si tratta in questo caso di un evento poi è un all-in su quello. Sono quattro mesi in cui si parla di questo dopodiché dal 12 marzo, giornata dell'evento, si spera che poi ci saranno dei seguiti insomma un seguito però per ora il 12 marzo l'evento è quello, l'obiettivo è il 12 marzo nel caso di un brand ci sono degli obiettivi di breve termine però vengono poi di volta in volta magari cambiati, spostati, rimandati. Cioè è detto che ci sia una data finale dove tutti debbano fare qualcosa Ecco quanto segue anche dopo l'avvenimento di un evento offline, la comunicazione e quanto è importante mantenere poi attiva quella parte di comunicazione per quanto tempo cioè immagino che fra un anno non se ne parlerà più però per quanto tempo poi voi continuate effettivamente a mantenere viva la terra. Ad esempio in questo caso abbiamo previsto che comunque nel mese successivo all'evento ci saranno delle attività di comunicazione che ancora non posso svelare ovviamente e in generale è importante che ci sia poi un follo successivo chiaramente più di tanto se è un follo fino a se stesso non può durare nella testa delle persone quindi se uno poi vuole dare un... vuole fare un... come dire... un rinfrescato, un rimando a quello che è stato... quello che è passato è importante trovare qualcosa successivo. Cioè per dire, vi ricordate cosa abbiamo fatto due mesi fa? Bene, faremo lo stesso tra tre mesi. Oppure fra tre mesi tenetevi pronti che faremo un'altra cosa dare alle persone un'aspettativa, qualcosa su cui poter immaginare, poter fantasticare per i mesi successivi quindi se uno dice, vi ricordate che abbiamo fatto un mese fa? Bene, grazie per aver partecipato chiaramente se magari l'obiettivo è farne solo uno è diverso nel caso di un brand invece può essere importante perché il brand, la vita del brand chiaramente uno se l'immagina magari illimitata allora può succedere di vedere in comunicazione delle campagne di alcuni brand che dicono l'anno scorso per... non so, per Natale abbiamo fatto questa campagna le ricordate, vi è piaciuta? tenetevi pronti per la prossima, oppure vi è piaciuta? cosa non vi è piaciuto? Ne faremo una ancora più bella grazie ai vostri suggerimenti quindi chiaramente lì, però ci sono anche loro, anche in quel caso, delle tempistiche diverse è in base un po' su quello che si tara la durata in base, in generale, comunque un mese o due si riesce ancora a creare emozione quando le persone lo vedono invece quando poi la campagna effettivamente finisce anche dopo il follow come fate a capire se è stata una campagna di successo? quali sono le metriche che andate ad analizzare? allora, è importante chiaramente avere un obiettivo prima della fine della campagna in base al tipo di campagna si riesce a fare una misurazione personalizzata nel caso ad esempio di comunicazione nel campo del toilet, nei bagni ad esempio ci è capitato di rifare delle campagne dove l'utente, quindi chi entrava nel bagno poteva magari scattare una foto sulla comunicazione, vedersi ad esempio nello specchio e condividere la foto sui canali social, quindi il brand vedeva quante persone effettivamente scattavano la foto, la caricavano sui social avevano un'idea del se l'obiettivo era stato raggiunto o meno idem con campagne di comunicazione sempre offline dove si poteva riscattare un buono o uno sconto quindi se facevi la foto potevi avere diritto magari anche col QR code a un buono che ti arrivava via mail con la quale poi andavi nello store a redimere il tuo premio nel caso dell'offline ad esempio si lavora anche con negli eventi offline si lavora anche con il numero di persone che parteciperanno a quell'evento quindi in questo caso ad esempio nel progetto attuale su cui stiamo lavorando abbiamo un obiettivo di un tot di persone che dovranno scendere in piazza che misureremo in base ai registrati e quindi in quel caso si riesce a misurare quando è online ci sono i sistemi di misurazione online quindi sono quelli che conosciamo tutti e sostanzialmente chi poi alla fin fine riscatta col tuo action si, il tuo action e i click sul sito che sono generati da quel determinato link che magari hai dato soltanto su ogni canale diversificato sono tutti gli strumenti di digital marketing che permettono questo devo dire che per quanto riguarda la parte offline che magari quella che uno conosce meno che si configura meno nella propria testa se è esterno a questo mondo c'è stato sempre un buon riscontro da parte di tutti i brand che hanno stato sempre abbastanza contenti delle campagne che abbiamo fatto perché generavano un forte engagement con le persone e quindi sicuramente lo strumento funziona bene beh effettivamente poi anche tante altre start up che abbiamo intervistato ci hanno sempre detto che unire un po' l'offline e l'online oggi è un trend che sicuramente va anche semplicemente per rendersi reali perché poi alla fine uno vive sempre sul computer e nel mondo virtuale ma poi deve anche venire fuori le persone assolutamente adesso chiaramente c'è il trend magari di digitalizzare un po' tutto anche la propria vita tutto quello che uno fa lo mette sui canali su Facebook, su Twitter, su Instagram però poi noi siamo tutte persone fisiche offline quindi anche per creare business è importante che ci si veda anche in faccia di persona si conoscano le esigenze magari della controparte ci si capisca effettivamente di cosa uno ha bisogno l'offline è l'unico modo per farlo poi nella maniera corretta almeno con il cliente finale con il cliente finale sicuramente poi se lavori su un target chiaramente se è un e-commerce non è che devi conoscere tutti i tuoi utenti uno per uno ovviamente però il mercato sì quindi comunque invece magari gli utenti no però le persone che stanno magari di cui vendi prodotti, brand di cui vendi prodotti devi saperli, conoscerli bene offline certo ecco tu mi dicevi appunto che siete partiti dall'offline poi vi siete spostati a fare un mist online offline secondo te un po' i trend futuri per adesso oggettivamente tutti si pubblicizzano online e quindi poi automaticamente distinguersi diventa più difficile da una parte un po' come si riesce ancora a distinguersi secondo te e un po' cosa occorrerà fare nel prossimo futuro per quali canali nella comunicazione online intendi beh la cosa importante adesso è il trend che sto vedendo anche negli ultimi anni essere sempre sul pezzo appena escono delle notizie di qualcosa cercare di legarsi a quelle per fare un buon boost sulle persone perché di campagne standard online ce ne sono tante quelle che forse fanno la differenza sono quelle che magari entrano in comunicazione in un momento specifico in cui l'utente è colpito da un'altra notizia e magari legarsi a quella notizia fa risaltare ancora di più il proprio brand poi ci sono delle scelte ad esempio che cambiano con il tempo adesso ieri leggevo che la coca cola ad esempio colosso mondiale ha deciso di cambiare drasticamente la comunicazione da qui in avanti e di non comunicare i singoli brand coca cola zero light eccetera eccetera ma di fare sempre brand coca cola quindi paradossalmente è nata come brand unico poi si è differenziata ora sta tornando come era prima quindi coca cola semplice e poi vabbè magari differenziando sui singoli prodotti però il brand coca cola deve emergere di più perché era risultato dai sondaggi che si era un po' perso il valore di marca grazie a questa diversificazione sui vari prodotti ma il trend secondo me continuerà un po' ancora così perché pensare a un mondo solo online o solo offline ormai non ha più senso sicuramente l'offline non cambierà mai nel senso che noi viveremo sempre offline l'online si svilupperà ancora di più quindi un'integrazione ci sarà sempre poi sarà anche ai brand capire effettivamente come andare a differenziarsi ma quello penso che cambia anche con la nuova magari con la nascita di nuovi canali social che adesso non ci sono oppure dalle definizioni che gli attuali social potranno avere in futuro se ne pensiamo anche ai canali che conosciamo più semplice facebook come era 5 anni fa e come adesso è uno strumento completamente diverso ci sono delle funzioni in più che uno può fare che magari 5 anni fa neanche immaginava l'idea anche del video che sono incorporati nella piattaforma 5 anni fa non era pensabile quindi adesso anche quello è uno strumento che viene utilizzato moltissimo per fare comunicazione idem instagram prima non si poteva fare a dv su instagram adesso si potrà quindi i singoli strumenti i canali social network più conosciuti nella loro anima stanno avendo delle modifiche delle declinazioni quindi su quelle poi dovranno cavalcate e capite nel dettaglio devono cercare di differenziarsi anche loro eh ma sì perché comunque devi poi adattarti ai contenuti che magari l'utente si abitua a vedere pian piano e quindi insomma sicuramente questo perfetto ringrazio per tutti i consigli che hai dato ai nostri utenti l'ultima cosa che ti chiederei come facciamo sempre sono tre consigli che daresti a un potenziale start-upper che magari come te qualche anno fa si approccia a questo mondo cosa avresti voluto avere in testa quando sei partito diciamo allora sicuramente bisogna avere un'idea di business valida ma essere pronti comunque poi a modificarla nel tempo non bisogna essere troppo radicati su quello che uno pensa senza da esterno senza poi magari entrare nel mercato e capire magari i bisogni come quali sono i bisogni poi effettivi quindi il primo consiglio secondo me può essere la flessibilità nel modificare anche le proprie idee su quello che sono le percezioni poi del mercato quindi non radicarsi troppo su un'idea iniziale il secondo è trovarsi un buon team un team di persone valide che si mettono in gioco come te che sono disposte comunque a come dire che hanno competenze diverse e che siano disposte anche a darsi un tempo prima di vedere dei risultati concreti è chiaro che è importante avere subito dei buoni risultati però quando uno si mette a fare start up da zero è impensabile che in pochissimo tempo abbia subito un riscontro eccezionale quindi se uno capisce che il mercato può essere colpito bene e che si può essere scalabili consiglio di comunque andare avanti finché poi chiaramente se proprio l'idea non dovesse andare però di andare avanti un periodo di tempo darsi un periodo di tempo prima del quale non prendere alcuna decisione drastica come magari no basta non ce la facciamo più eccetera cioè darsi un po' di tempo capire se va bene e poi eventualmente proseguire però in quel periodo dare comunque il 100% terzo consiglio terzo consiglio può essere quello di parlarne il più possibile anche con persone esterne che è un consiglio che vedo che negli ultimi tempi sta prendendo piede inizialmente quando ho cominciato io c'era l'idea dello start-up era un po' geloso anche adesso ci sono però un po' meno cioè del geloso la propria idea perché ha paura che poi magari la copiano altri la possono prendere spunto e fare qualcosa di simile io non ho visto nessuno che ha copiato altri solo per l'idea cioè ha copiato altri magari sì però non da solo e non solo da un'idea come da altri magari prendendo delle idee modificandole creando qualcosa da quest'altra dall'idea di partenza sicuramente non è il fatto di averne parlato che sia stato il motivo ma uno può copiare pure un business che conosce perché lo vede su internet oppure magari un business che esiste da tre anni viene copiato da 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 chiaramente con degli investimenti molto elevati creando dei team enormi e puntando facendo un all-in nei primi 18 mesi del nuovo business però copiare il copiaggio ci sarà sempre anzi a volte copiare da chi l'ha fatto prima di te magari ti può dare uno spunto importante quindi non è il non parlarne all'inizio che cambia le cose se uno ha un'idea valida è giusto che lavori su quella e ne parli il più possibile per coinvolgere le persone ma più che altro per farsi finire magari gratis degli spunti che altrimenti non riceverebbe certo perfetto grazie mille e ci rivedremo magari dopo i cap Roma ci dirai come si dovete venire adesso saremo a pulire anche noi ciao 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 ciao